Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti L'Udc Irpina è in forma politica sbagliante e di fatti, a differenza del PD che si consuma nelle sue diatribe interne a parlare del niente, la squadra di Ciriaco De Mita affronta i problemi dello sviluppo con una determinazione mai vista prima. Così, mentre Ciriaco organizza un convegno con il ministro Maurizio Martina per rilanciare il tema delle risorse agricole, il presidente della Commissione regionale agricoltura, Maurizio Petracca, si incarica di illustrare le opportunità finanziarie belle e pronte soprattutto per la zootecnia. Va bene tutto questo zelo verso il mondo condadino, ma senza eccedere. Non vorremmo che De Mita e Petracca si ritrovassero a Munchi chi le vacche e chi le capre.